Abbiamo una compagna di vita, abbiamo 9, 9, 7 bidet, stupenda, stupenda, è un 4S, noi siamo nella, nel diciamo nostro teutonico, ci andiamo a inserire, è una sorellina, è un bidet, è stupenda, non c'ho la cintura, la metto perché sennò ci arrivano tutti questi poliziotti, ma in realtà invece hanno ragione perché salva la vita, la cintura, facciamo i bimbi buoni, quelli che non facciamo tutti i giorni, è Santa Claus verso il bidet cabrio.